Stiamo organizzando oltre un centinaio di incontri in tutta Italia con tutte le forze disposte e sono tante a discutere con noi, stiamo organizzando qui al Ministero gli incontri più istituzionali con le associazioni, con gli studenti, con i sindacati, quindi mi pare che questo metodo non sia mai stato usato per in ora.